Eccoci arrivati alla conclusione di questo piccolo lavoro su Legosnot. In questi due esercizi ed in questo video ti farò vedere come io ho cercato di riportare tutte le conoscenze che abbiamo ottenuto negli esercizi precedenti, ma riportandole su un groove che ho scritto così sul momento, quindi l'invito sarà poi scriviti tu un groove e prova a fare lo stesso lavoro, questo proprio per interiorizzare tutto il lavoro tecnico che è di conoscenza e di consapevolezza soprattutto dei sedicesimi che abbiamo fatto finora. Nel riff di base trovi un riff semplice in Re minore, Re, Un, Fa, poi Fa, Re, Re, Un, Fa, Uno, Do, La, ok? Io lo prendo con questa diteggiatura, potresti prenderlo con mille altre, non è un problema di diteggiatura. Partendo di qua, allora io metto la mia base, sempre queste sedicesime, e partiamo con il riff. E poi dal giro dopo proviamo a fare la prima variazione. Torniamo sul riff. Vedi che sono completamente sovrapponibili. Andiamo sul secondo. Eccetera eccetera. Ti dicevo che sono completamente sovrapponibili, perché non ho alterato le note del riff, ma le ho tenute al massimo le ho corciate, tipo nel primo esempio, dove ho là che durerebbe un ottavo, avendoci messo una ghost note che mi serve poi per cadere sulla nota quando ricomincia il giro, l'ho fatto diventare di un sedicesimo. Però io l'attacco della nota reale lo vado sempre a rispettare in tutti e due gli esercizi. Quindi le note sono esattamente quelle che vai a suonare sopra, ma condite da questi ghost note che, come hai sentito, penso si rendano comunque il riff molto più ritmico, molto più interessante, molto più ballabile. Quindi in questo caso si tratta di un esercizio qua di lettura ritmica anche. Io quindi nell'esercizio 19 vado a mettere re, poi pausa di sedicesimo, ta, un tutta, ghost note che cade sul levare del due. Cioè sul terzo sedicesimo sarebbe il ghost, pausa, ghost, e poi mi arriva l'ottavo sulle varie del due. Terzo di pausa, quarto quarto, approccio con le tre ghost, quindi quello che abbiamo studiato prima. Poi andiamo un re re, qua rimane uguale, qua un ottavo, approccio con due note ghost, quindi per cadere sul do acuto. Poi facciamo la ghost, questo è l'approccio di una ghost al battere della battuta dopo. Nel secondo semplicemente vado a scegliere, ho scelto delle altre combinazioni, quindi così come ho scelto queste potresti scrivere altri dieci variazioni, anche di più, mettendo tu delle ghost a tuo piacere, sempre mantenendo ancora questo riff. Poi chiaramente sviluppalo, scrivi altri quattro o cinque riff, prova a condirli con queste ghost note. Nel secondo, quindi partiamo, quarto, due, qua ne metto due sedicesimi che cadono sull'ottavo, mentre prima io avevo pausa di sedicesimo, un approccio, approccio con un sedicesimo ghost che andava. Poi invece il finale, sul quarto quarto, vado con l'approccio a due, quindi levare, cioè ho pausa di un ottavo, due sedicesimi ghost che cadono sul tatta del re, poi qua ho pausa e approccio con una nota sedicesimo, quindi tatta, seconda battuta, e poi qua approccio da tre, un, da tre ghost note che mi vanno sul do e sul la. Come vedi sono semplicemente spostati da altri posti, questo va a essere simile a questo qua, e così via, perché ho sempre utilizzato o l'approccio da uno, o da due, o da tre, per cadere su delle note senza alterarne comunque il riff. Bene, spero che questo workout è giunto al termine, spero che tutto questo lavoro ti possa essere utile in qualche modo, anche solo per spronarti a studiare, ad avanzare sul basso, scoprire comunque meglio uno strumento così fantastico che è il basso elettrico. Grazie ancora di tutto e ci vediamo presto, ciao!